rieccoci qui oggi in un nuovo tutorial di mini projects official qui oggi abbiamo un telecomando infrarossi un ricevitore infrarossi e un led rgb con il quale abbiamo fatto questo piccolo progetto assieme ad arduino andiamo a analizzare la parte hardware del progetto qui abbiamo un modulo già fatto con un led rgb il quale è dotato di quattro pin per funzionare quello più a destra è il pin ground della massa da collegare almeno della breadboard e in seguito ci sono i rispettivi pin a ricordo che è meglio per non perdere tempo successivamente suddividere con i colori adeguati i vari pin ad esempio il pin d'alimentazione qui l'abbiamo messo col rosso alla breadboard che è quello dei 5,0 volt mentre quello della massa è quello blu tornando al led i rispettivi pin quello che vedete è attaccato al cavo arancione è il pin r che fa accendere la parte rossa del rgb in seguito il verde è collegato il cavo collegato al pin green del led e il blu lo stesso al blu del led qui invece abbiamo un ricevitore della os opto ed è un 1838b e si può alimentare con una tensione dai 2,7 ai 5,5 volts noi qui lo stiamo alimentando a 5 volts e sui datasheet c'è scritto che funziona in un anche fino a 12 metri anche 18 metri ma ci credo poco perché comunque è un ricevitore molto modesto e poi fornito nel kit di arduino 1 non importa l'importante è che funzioni i rispettivi pin sono guardandolo di fronte come ce l'abbiamo adesso il pin più a sinistra è quello output che darà fuori un segnale digitale io l'ho collegato ad esempio il pin 3 che è un pin pvm oltretutto successivamente il pin in mezzo è la massa e il pin a destra è l'alimentazione infine qui abbiamo un telecomando modulo scm infrarossi molto semplice che è già fornito nel kit di arduino quando lo acquistate dove vi pare vi faccio un flash sulla scheda arduino per vedere dove ho attaccato i cavi per il led rgb ho attaccato rispettivamente il rosso il verde e il blu su delle uscite digitali mentre anche l'uscita del del ricevitore del telecomando è sempre su un pin digitale e l'alimentazione sui 5 volt di arduino e il ground sempre nel pin apposito sulla scheda andiamo a vedere la parte codice ecco qui la parte software del nostro progettino qui andiamo ad includere la libreria i remote che servirà all' arduino per decodificare i segnali inviati dal telecomandino qui definiamo il pin che va dall'uscita del ricevitore fino al pin 3 quello che ho detto prima e in seguito quello che ci interessa a noi sono i pin rg e b 456 dove abbiamo collegato rispettivamente i pin del led rgb ed infine nel void setup abbiamo da dichiarare serial begin se volete visualizzare i risultati nel monitor seriale e dichiariamo i pin mode in output e successivamente sempre nel void setup abbiamo la parte codice che va a decodificare il tipo di segnale perché ci sono vari tipi di segnale e quindi non tutti i segnali possono essere decodificati il nostro è un segnale di tipo NEC e quindi può essere decodificato quindi se non è decodificato viene svolta questa parte di codice qui altrimenti se è decodificato vi da nel monitor seriale il valore in esadecimale e la variabile code value prende il risultato e successivamente lo utilizza per il void loop appunto nel void loop abbiamo e principalmente quello che ci interessa sono questi che sono degli if che si poteva fare anche un case però l'ho fatto molto velocemente il codice e qui abbiamo il codice che corrisponde al segnale decodificato dal ricevitore e rispettivamente ad esempio se io schiaccio 1 io con l'1 ho messo che lo voglio spegnere e questo è il codice che il ricevitore riceve e che l'arduino decodifica successivamente qui abbiamo digital write al led rgb per accendere rispettivamente i colori del led se è low lo spengo se è high lo accendo e alla fine il codice è questo qui se lo provate e lo collegate come l'ho collegato io a livello hardware il codice funziona perché l'ho già provato andiamo appunto a dare un occhio di come gira il nostro progettino eccoci qui alla fine col nostro progetto il telecomando il ricevitore l'arduino e il led rgb per provare come funziona tutto assieme allora abbiamo detto che schiacciando uno si spegne beh è già spento il 2 io l'ho impostato al rosso il 3 al verde e il 4 al blu in seguito ho fatto un po' di combinazione di colori a caso fino ad arrivare alla combinazione di tutti i colori che dà come risultato il bianco quindi qui abbiamo blu e verde qui abbiamo rosso e verde e qui abbiamo blu e rosso e infine tutti i colori con questo è tutto e vi invito ad iscrivervi a condividere il video mettere un piace a far quel che vi pare se vi è piaciuto bene altrimenti amen e vi ricordo di passare dalla nostra pagina facebook e adesso abbiamo anche un nostro sito su wordpress che vi darò il link in descrizione grazie per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video grazie